Ciao raga, oggi ho deciso di fare un gameplay, è un gioco che mi sta tenendo molto in questo periodo, è il Tris, una bella scarica di adrenalina, ho una voglia matta di giocare, quindi direi di iniziare subito la partita Allora, start game, tocca a noi fare la prima mossa, voglio fare una partita aggressiva perché c'è il gameplay, ci tengo a fare bella figura, inizio dall'angolo Oh, che mossa ragazzi, vediamo un pochino, scusate se l'audio non è granché, ma è il più gameplay che faccio ancora Vediamo a fondo qui, nell'angolo in basso, che paura, ogni volta che attaccano dal lato viene una paura bestiale, vediamo a fondo di qua Sì sì, li mettono lì, perfetto, ok abbiamo vinto, dai ragazzi, abbiamo vinto, sono contento, questo gameplay mi ha portato bene È un gioco che spacca, ve lo consiglio, spero nei prossimi giorni di poter fare qualche altro gameplay, vi saluto, ciao ragazzi